Mentre stavo registrando il primo episodio della nuova serie, successe un qualcosa di molto tattico. Oh mio Dio, Cristiano Ronaldo, non ci credo, non ci credo, Cristiano Ronaldo è un pacchetto, oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, mia madre pensarà che mi stanno attaccando gli alieni, Cristiano Ronaldo è un pacchetto, è il mio primo giocatore, valutato 90 o più, in tutto viva, non ci credo, non ci credo, come è partita questa serie. Mentre, mio Dio, Cristiano Ronaldo, Warcates, alto basso, piede referito destro, piede debole, 4 stelle, 5 stelle massabilità, alto 185 cm, nato, guardate un po', 1985 febbraio, 5 di febbraio. Oh mio Dio, Cristiano Ronaldo, dos Santos, avevi i lucchi, non mi aveva senza tattico che c'ha, non ci credo ragazzi, finalmente, e andiamo. Siiii Yes, yes!